Resta Gianluca Lapadula il nome al centro delle trattative di mercato che ruotano intorno al Pescara. Un mercato che il presidente Sebastiani potrà meglio indirizzare nel suo complesso una volta che si conoscerà l'epilogo di quella che potrebbe diventare una vera e propria telenovela. Nelle ultime ore tra le due principali litiganti, Napoli e Juventus, si è inserito di prepotenza il sassuolo di Eusebio Di Francesco. Il patron Squinzi sarebbe disposto a mettere sul piatto 8 milioni e mezzo di euro per accaparrarsi il capocannoniere della Serie B, dando anche in prestito l'eventuale sostituto Marcello Trotta, giocatore che piace molto a Oddo. Trotta ha fatto molto bene ad Avellino dopo una lunga esperienza in Inghilterra. Lo scorso gennaio è passato al sassuolo dove ha giocato poco. Pescara potrebbe essere la piazza giusta per esplodere in Serie A. Resta forte il pressing del Napoli per la Padula, anche se il presidente Sebastiani potrebbe spingere il calciatore verso la Juventus in una più ampia trattativa che comprenderebbe anche il gemello del gol Gianluca Caprari con la vecchia signora. Il Delfino ha discorsi aperti in atto quali il riscatto di Fiorillo e il prestito per la prossima stagione di Mandragora. Questioni che potrebbero complicarsi qualora la Padula scelga di giocare all'ombra del Vesuvio. Il Napoli però può mettere sul piatto anche una contropartita come il prestito del portiere Luigi Sepe, ex Virtus Lanciano, giocatore già noto anche al DS Inpectore del Pescara. Luca Leone pronto a raccogliere l'eredità di Giorgio Repetto. In uscita dal Lanciano Leone potrebbe sedersi a tavolino con l'Atalanta per discutere del prestito di un altro calciatore noto in Abruzzo, l'attaccante Gaetano Monachello. Per l'attacco resta possibile anche il nome dell'uruguayano Nico Lopez in forza al National Montevideo ma di proprietà dell'Udinese. Con il club dei Pozzo il Pescara vorrebbe ridiscutere la possibilità di riavere Valerio Verre ma la strada sembra in salita. Nelle prossime ore il Delfino discuterà con la Roma delle posizioni di due giocatori di proprietà dei Capitolini, il difensore Alessandro Crescenzi e il fantasista Daniele Verde. Entrambi erano approdati con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Ora va trovato un accordo per la loro permanenza in rival adriatico.